Ben ritrovati ai tavoli del DPT di Venezia, siamo rimasti in 23 e la pausa è appena terminata. Abbiamo i bui a 5.000-10.000 con l'ante a 1.000. Vedete gli ultimi tre tavoli in gioco, ci avviciniamo sempre di più all'ultima bolla, quella del tavolo finale. Vi ricordo che arrivati in 10 player left i giocatori verranno riuniti in un unico tavolo e si giocherà fino a raggiungere gli otto candidati per il tavolo finale televisivo di domani. Quindi attendiamo per vedere qualche novità ai tavoli. Vedete inquadrato Crisbus che ha appena ottenuto un ottimo double up e che quindi può affrontare il torneo con maggior tranquillità. Vedete anche su questo tavolo un Olin. Vediamo in Blind War E c'è il Fold Ci aggiorniamo nei prossimi video E prossimamente Seguiteci sul forum Ciao ragazzi